Iniziamo con questa seda, la nona edizione, non solo oltre, di Ottunno letterario a Bosso. Causa comune se non avremmo raggiunto quest'anno la decima edizione. E non è poco, non è poco, se ci sono stati tutti questi punti che c'è stata una certa partecipazione. Quest'anno, come vedete dal titolo, abbiamo deciso di fare Ottunno letterario, ci saranno cinque punti, dedicati tutti alla nostra zona. Mentre altri anni abbiamo fatto anche qualcosa come va, oltre la nostra zona, la letteratura in generale, la storia della letteratura, eccetera. Quest'anno invece ci dedichiamo proprio a questa zona, un capitolo tra i due fiumi e sul graffa, scritti, storie e memorie. Io direi che è particolarmente interessante, soprattutto, come non mai, vicino alla nostra storia, alle nostre esperienze. E per cui confido in una buona partecipazione. Iniziamo stasera con il professor Giulatti, che lo ringrazio. Il professor Giulatti è il nostro, diciamo così quasi, il nostro concittadino, quindi Bassano, e presenterà il suo libro al temato. Sarà Marco, che gentilmente lo presenterà, le farà per domande. Alla fine, dopo, eventualmente, se vorrà, intervigare anche il pubblico. Desidero ringraziare anche la libreria che è UBIC, che è giù in fondo, con una signora, che ha dei libri del professore, che alla fine qualcuno potrà comprare, e anche potrà essere alla dedica alla parola di San Giulatti. Ringrazio questa libreria perché, solo dall'anno scorso che ha gasolo, e gentilmente e generosamente si è offerta, ecco, di accompagnarci in questo film. Grazie, e buona fortuna anche a voi. Grazie. E per il vostro avvento. Grazie a tutti, e prima di iniziare, e ringrazio qui Lucio, come voi avrete visto, facciamo un'introduzione tramite un video, che aveva girato, Lucio, qualche anno fa, ormai. 2012. 2012. L'autunno del grappa. Lucio ha fatto 4 giorni, uno dedicato all'autunno per uno stagione. Allora, siccome è l'autunno letterario, siamo più d'autunno, abbiamo dicevo inizio. Grazie a tutti, e buonasera. Buonasera a tutti, e diamo la benvenuta a Lovis Giulianti, patroano di origine, ma bassa legge di adozione, come di cacere definirsi. Di professione, è una guida ambientale escursionistica, un insegnante, dirige un centro di formazione, e, non dimentichiamolo, uno scrittore, un di cui cattore storico, autore di diversi romanzi, tra cui l'angelo del grappa, la sua casa mia, romanzi che trovano la loro ambientazione nelle nostre montagne, nel monte grappa, un tempo scenario di tristi vicende tecniche, come ad esempio la prima guerra mondiale. e ora io lascio la parola all'autore che completterà questa mia breve introduzione biografica e ci presenterà il suo romanzo Lo chiamavano Alpe Madre e gli chiedo anche il perché di questo nome, di questo titolo Alpe Madre. Buonasera a tutti, no, mi è forte, lo prendo l'istante perché sennò. Beh, intanto grazie, grazie per avermi invitato, grazie Marco, che ci siamo sentiti di dire di sere, che ci sei super preparato. Allora, partiamo subito a capire perché, perché lo chiamiamo Alpe Madre, che qua, non è una roba aperta, nel senso che di solito, la spiegazione di questo titolo si dà oltre confine, qua siamo a piedi del grappa, penso che si accorgano a tutti. Mi è sempre piaciuto, mi ha affascinato questo libro, primo nome del grappa, sapete che grappa Alpe Madre, grappa, femminile, la grappa, e poi è diventato di grappa dopo la prima guerra mondiale, quando tutto quello che aveva a che fare con guerra, quindi con quell'aspetto, diciamo maschio, doveva diventare maschile, e quindi il piale, la piale, il piale, la brenta, quindi la cubrenta, così anche il grappa, e così anche la sua rotte, fino a quel momento era la sua rotte, e la sua rotte. A me è sempre piaciuto questo aspetto madre, anche perché è la prima montagna che si parla alla Pietro Morano, quindi questo aspetto di piale de madre l'ho sempre oltre utilizzare in qualche modo. lo chiamavano ma il mio padre era un evidente errore, quindi quando ho consegnato la cosa a Rizzoli, l'ha detto, se doveva cominciare a mettere la posta, magari c'è il titolo mio, e poi lo scriva, quindi dice che era proprio quello, lo chiamavano nella parte muschile, quindi voi volete tutti i vostri far diventare questa montagna maschia, quando il re la madre rimane, ed è infatti un libro che è nel quale è molto legato anche all'aspetto femminile del Grappa in due persone. Questo è un parlo. Ecco, nel suo romanzo ci sono continui imprecci di storie, in fione essendo appunto un romanzo. Nel corso dei vari capitoli la storia dei nostri protagonisti, magari dopo, ci darà un accenno, si impreccia con l'avventato di Sarajevo, una delle cause scatenate dalla Prima Guerra Mondiale dove a perdere le loro vite furono le re e al trono d'Austria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia. Ecco, io le chiedo quali episodi realmente accaduti storicamente sono presenti nel libro? Allora, come giustamente diceva Vado, il libro lavora su tutti anni temporali, quindi c'è un piano temporale del passato scritto al presente e drato e un piano temporale del presente scritto al passato questa è un po' una firma dei dutinei e meno sul piano temporale del passato io ho ricostruito quella che è una vicenda che tutti noi conosciamo perché adesso io vedo qualcuno più o meno della mia età qualcuno più vecchio che Roberto e che sicuramente ha fatto delle scuole mentali della prima guerra mondiale e se avete per chi l'ha fatta la frase all'inizio della prima guerra mondiale è la vera scoppia per colpa della metà di sarei l'evole ora cosa devi mettere nei mani di un bambino di dieci anni che ha sempre sentito parlare della prima guerra mondiale come guerra grande che impara l'italiano a scuola perché ho un ricordo ben chiaro del mio primo giorno dopo tornando a casa della scuola con la prima elementare quando mi hanno detto ma a scuola cosa avete fatto io gli ho risposto non so imparare la lingua strana perché io ho parlato benedio sono nato nella provincia di Padova che adesso è meglio nella Padova però adesso sono in campagna e il papà di Padova che è quindi immagino l'antico ti trovi da frontare una lingua molto e sta guardando è sempre stata una cosa che ho sentito dire io screzzando tutti i ragazzi dico sempre che le prime tre parole sono sempre del papà ma non guarda la grande perché il non non lo ha fatto e quindi ricadeva puntualmente questa parola il nonno è da citturro colpa della guerra la grande il nonno secolo di un angolino colpa della guerra la grande il nonno senza capelli colpa della guerra su questo l'abbiamo subitita e quindi quando arrivi in quinta già quando arrivo in terza elementare poi se cominciamo in terza elementare se vi ricordo sul sitiario e dai questi civico pilonesi egiziani eranti così che i romani poi a un certo punto tu arrivi in quinta quindi fai unita in Italia che nessuno si ricorda mai subito unita in Italia tocca a tocca a e e la maestra dice adesso cominciamo a parlare della prima guerra mondiale e no fermi adesso prima della prima guerra mondiale mi spieghi cos'è la guerra grande perché non ho ne ancora associato a queste quelle cose mi spiega con difficoltà che è la stessa cosa vabbè allora partite e iniziamo così allora punto inizio per colpa della vita di sarei se voi mettete dei panni in un avvio di 10 anni che è sempre tutto con per fortuna col fatto che la guerra è stata una brutta cosa che ha coglionato il mondo per associazione di idee colpa di Francesco Ferdinano quindi tutte le desirazze di mio nome colpa di Francesco Ferdinano ci vuole un po' e guagliaranno gli studi di cui per riuscire a provare a vedere questa versione a volo di un certo di chi lo senta ma a volo di un certo vuol dire che devi riuscire ad avere la capacità che non è facile di provare a capire la storia senza essere di parte è inevitabile che siamo tutti di parte siamo cresciuti con dei libri che sono stati scritti di parte e poi c'è un puntino un po' preoccupato in colla che si porta avanti per anni di parte adesso è un po' meno accentuato rispetto a quei punti più storici però comunque di parte e quindi comincio a studiare bene tutto quello che riguarda non solo quella dell'arco ma tutto il mondo dell'espurro che è un mondo estremamente affascinante perché al di là di Francesco Ferdinando il che come è che tutti noi conosciamo Francesco Giuseppe è sempre stato tant'è che in prima di una docenza che gli va anche descritto così a scuola come l'edito numero uno dell'italiano cioè era il cattivo ok c'è una una frase molto bella di un grande filosofo che dice o muore da eroe o muore il vecchio da cattivo il grande filo da sua mamma è una frase un bacma non so se avrete mai sentito il vero cioè o muore il giovane da eroe o 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 e lui muore da cattivo tutti noi ci ricordiamo con quello cattivo se vai a vedere invece la storia della sua e pensarlo non puoi fare altro che dimenticare la bibliografia italiana e prendere la bibliografia austro-ungarica tedesca per fortuna ce ne sono tradotti molto bene e ti accorgi che in realtà era un grande imperatore e che l'ultimo periodo della sua vita che è quello che poi è arrivato alla prima guerra del 1906 che poi ha portato il mondo alla prima guerra mondiale lui di quella cosa la centra relativamente nel senso che ormai è stato soggiogato completamente dai suoi generali e lui ha in mente firmare il continuo capo e io quando lo descrivo nel libro ho proprio davanti queste immagini pensate che lui muore e chiede al suo servo personale che è un punto termine quindi il suo capire del personale è un punto corretto che scrive il punto del libro gli chiede muore in un tempo la sua regola alta dammi la mano ad alzarmi che devo agravare scriva mia che era due passi dal letto perché devo firmare devo fare ancora delle parti sono stato a mio auspire per vederla questa stanza questa scrivania per avere anche questa idea perché io devo vederle le cose che ho raccontato e tutte le immaginità rimbrattate di sudore morente che continua a firmare e mi è affascinante questo anziano tant'è che non mi si invoca anche delle frasi che non sono sue ma mi sono permesso delle licenze letterali dicendo proprio ma perché io non posso fare nonno come tutti gli altri ma perché devo continuare a fare questo tipo di vita io ho dato questa immagine un po' diversa da quella che siamo abituati e lo stesso per la città che per essere molto spicci e io sarei un po' loro un po' attivo per dare questo spunto veloce lui vuole sposare un po' per fare questo si inventa mille strategie uno più famoso di tutti è che per stare vicino a Sofia che era la dama di compagnia di una famosa tutessa si inventa il tennis e va con questa tutessa a giocare al tennis qui era un'amica a giocare al tennis non era forte a giocare al tennis però andava per stare vicino a questa dama di compagnia e in uno dei tanti giorni che va giù per il tennis toglie il medaglione mi portava il collo sapete che mi viene che si piaccia il guaduncino si apre se la foto dentro non fate sicuro la testa così capisco che mi state ascoltando e non pensate alla crisi che sarebbe a casa e se non dimentiché erano studiatori allora la governante che va al sistema al studiatore lo trova lo porta evidentemente a una madre di questa duchessa che ciao schiaccia o non schiaccia schiaccia o non schiaccia la qualità è tanta la fine schiaccia e la foto cioè lei pensava questa foto della figlia in realtà è la foto di soffita poi immaginate lo scandalo che nasce a corpo spinto da questa donna che si sente tra vita nella loro proprio e dall'arri l'argomento di il liberatore lo mette all'espertesi o a ascoltare io capisco questo grande amore per questa donna venisce se vuoi sposare questa donna vedi cedere qualcos'altro cosa dopo di me la tua dinastia non avrà più nessun tipo di diritto di loro e infatti la storia poi si racconta lui muore e al suo posto non va uno dei figli ma Carlo Primo e quindi c'è un salto di generazione importante lui accetta accetta questa condizione poi pensata è piaciuto questo noi ce lo ricordiamo tutti e anche le foto ci aiutano in questo ha sto tipo mazzetta mazzetta questo pacchetto tutto niente quanto per lo vedere ma tutto così e che poi dici colpa sua è ma lo spieghievo non è neanche bello da vedere è cattivo ma vediamo l'altro aspetto della medaglia è così lavorato questa donna da rinunciare a discendenza a trono quindi immaginate che cosa rinuncia e mi ha affascinato tanto e quindi ho cominciato a studiare il suo attentato e tutti i retrocedenti dell'attentato e adesso io non mi ridungo perché primo perché siamo andati in una metà del libro e il secondo perché è strada più o meno nota insomma si sa già che l'assassino è un giallo un po' di soldi però ci sono tutti quei retroscena che si trovano in tutti questi libri che sono estremamente affascinanti e che in tutto ha pensare ma veramente cioè e questa è una trama ideale e questa è una trama ideale per questa parte del libro e quindi dopo l'attentato si cercherà e questo lo farà proprio questo questo diciamo questo fedele all'imperatore cercherà di sfrugliare questa notanza di dire ma quello che gli hanno raccontato è la verità o c'è qualcosa altro sotto però quelle cose si complicano perché se prima questo era protetto dall'imperatore quando nel 16 l'imperatore muove lui perde la protezione dell'imperatore e si trova a vivere una situazione estremamente distingile perché ha toccato proprio dei punti che non doveva ottenere però però non mi hanno la mia domanda adesso grazie ma mi ha fatto a te che mi ha chiamato e mi ha chiamato e parlando di personaggi femminili ci sono personaggi femminili nel romanzo ecco mi viene in mente il nome di Carlotta di Dora ecco io chiedo che ruolo hanno all'imperatore romanzo danno l'impressione in queste donne di avere un temperamento forte determinato di fronte a certe situazioni se non una nel loro contesto ruoli che purtroppo un po' contrastano oggi con l'immagine della donna cioè non sempre si ritrovano dunque io le ripropongo la domanda che ruolo ha voluto dare ai personaggi femminili che sono stati raccontati allora già lo si capisce dalla presentazione del libro la dedica che si fa alla prima a mia madre a mia moglie e a tutte le donne coraggiose primo perché a te è stata mia madre e mia moglie si chiamano le donne coraggiose e a tutte le donne che sono anche raccontate nel libro che hanno dimostrato il loro coraggio e che continuano a dimostrare il loro coraggio il grappa è femminile il grappa è una montagna governato e come nel senso positivo del termine gestito da donne adesso io mamma di una persona che si amaviglia tantissimo perché prima la donna mi aveva detto lo sapeva quieti ma tanto lo sapeva che finiva così ma la mamma è troppo perché mi sapeva altre cose e se voi vi muovete questo massiccio trovate che ci sono un sacco di donne che gestiscono le mani e a me piaceva molto questo aspetto perché le donne che avevo scritto su questo libro Carlotta per esempio che è la compagna di Angelo dell'Angelo del Grappo era appena citata nell'Angelo del Grappo e imprese in maniera importante in questo libro tra l'altro quando scrissi l'Angelo del Grappo in qualche modo ce l'ha dato in mente una Carlotta che sarebbe stata della mister di qualcos'altro ed è una diciamo di voi immaginatevi questo uomo dato questo Angelo che ormai è diventato un po' parte da Padova e poi magari facciamo un accenno dell'Angelo parte da Padova va su Grappo perfetto sconosciuto il Grappo lo adotta e diventa un po' il riferimento del rinfugio quindi tutti vanno su perché è la D'Angelo quindi un po' il fichetto però sotto chiede a Carlotta quindi qui non mi muore nel bisogno di qualcosa che chiede a Carlotta e sul libro non marco proprio ogni tanto questa donna che si sente anche a volte c'era assurata da quest'uomo che è sì la mia roba qua a testa ma si sono solamente caldita che torno tardi e c'è una bucola di me e lei che lo riprova con la stermezza di queste donne di montagna che devono portare avanti il rifugio che hanno le mani consumate callose perché io le conosco insomma sono donne che sono vituate a lavorare e questo aspetto mi piaceva mi piaceva per quella che era la parte moderna del libro la parte attuale e mi piaceva per quella che era la parte storica del libro quindi io vi dico questa figura femminile che mi ha sempre affascinato mi ha sempre incuriosito e cerco di raccontare un po' questa storia perché mi ha sempre affascinato incuriosito perché non mi non è proprio una storia di qualcosa che è presente sul sacramento io ho vinto un sacco di scommesse con le libide perché ci sono tre donne secondi sui sacrami mamma pinzami pinzami è un assoluto ma come ma qual è il posto migliore per nascondere una cosa mettere in vista mettere la maniera di tutti ok se tu costruisci un sacramento poi per me tutte le guide che ci sono qualcuno ha scritte non mai nominata a parte come sapete tutti la moneta generale giardino ma per questo non sono neanche altre donne e sono anche una cosa curiosa è che sono nella parola sottogarica del sacral e da volte gli dissi pesa proprio gli dissi una stupilagine namorosa in una pista rubata a venire austriaci portando il gioco gli austriaci è difficilissimo portare il gioco a venire gli austriaci perché devi avere un rispetto storico importante quindi alcuni termini devi evitarli come la resta il sangue l'inglese è ancora più complesso quindi quando arrivare alla parte alla fine a un sacramento in spontaneo viene questa beh la parla dietro no e mi fece una rispressione che tuttora io raccordo quale deve essere mesitato portate ragioniamo un secondo disperta che eh disperta che bella domanda allora guarda che il sacrario italiano guarda verso sud quindi noi lo studiamo che siamo nel nord d'Italia guarda verso l'Italia da che guarda è l'altro che mi fanno eh le ragazze e quindi vedi che è trinta più meno se no bravo più bravo meno e quindi se vuoi immaginare così immaginare i tuoi mondi uguali nello stesso contesto e quindi questo sacrario ha sempre avuto questo argomento del back del dietro per noi e anche la in cui voglio tornare a vedere 10.295 ragazze è che la cosa impressionante è solo 295 di loro e 10.000 sono racconti nelle due grandi numeri non è che sono molti meno perché sono 10.295 12.615 italiani quindi la differenza è abbastanza alta poco non sono tantissimi però non abbiamo in mente se sono cari un ciclo destro dalla parte italiana ha un'analyse molto più rispetto da parte della spiegata e una occhio o tre sarebbe siano contatti e invece no ce ne sono 10.000 senza 9 e qua c'è anche una storia interessante perché è la storia dell'esumazione di questo di santo e ci dimmiiamo altre cose e queste tre donne qua non c'è nessuna guida per due l'altro di qui c'è una ester rotelli che se possiamo aprire dei punti sulla mattina sulla ester rotelli su saranno se non ne avevano perché non c'è un corrispettivo non c'è la rea di che può essere maschile femminile siamo certi che sono l'altro ester rotelli probabilmente era anche indicato nel senso che sarà stata una tristina o l'utilizzo ecco nel suo libro in una delle due storie diciamo vengono nominate persone che hanno vissuto che ancora vivono sul grappa come Pietro Todesco un'altra che non odio perché la nomina la sto esprimendo ecco facendo questa scelta voleva Loris in un certo senso creare una curiosità di lettori spingendoli ad andare proprio su e appunto a ritrovare questi personaggi allora non mi esprimo perché ci sono persone molto più competenti di me però uso una parola che mi piace poco ma che in realtà è vera è il famoso market territoriale quindi riuscire in qualche modo a creare una curiosità e che questa curiosità sia confermata nel momento in cui tu arrivi al posto e vi faccio sorridere penso che qualcuno di voi avrà visto le puntate di porti montane che faccio per di nuova licenza allora io tutte le mattine a scuola ho l'abitudine di star sulla porta e tutti quelli che arrivano dal proprio pannello che ti vece per me è un'ambitudine quotidiana sono giorni scuoli qualche modo e di solito essendo io la autorità mi ignorano come è giusto che siano cioè mi guardano tutte le mani in classe una volta capita uno tutte le mattine qui e da andare a caso su quegli stessi una mattina arriva tutto ma io lo fai sta in televisione cioè prima di io per tutti i giorni qua e non vi so niente perché una volta in televisione diventa questa è l'effetto luogo che crea il vedere le persone che vorranno in televisione consumirlo perché dico questo perché effettivamente alcuni di queste persone nominate sono diventati sono diventati un po' la curiosità di chi sale in grappa e va a vedere se ha rifugio passano se c'è Giacomo o va a vedere se c'è la paura alle dolchette Giuseppe ascolta si questa è una parola che usano una cosa la Laura è la paura e santo dire tra l'altro Mauro un anello si curioso un giorno mi ha detto tre persone dentro al rifugio però te lo preoccupano lì questo resta uno dei misteri assoluti come il suo fatto è sempre si è creato anche per loro un certo tipo di interesse e ti devo dire perché faccio questa cosa perché l'ho fatto l'ho fatto perché da prima io ho studiato sui libri perché sono 10 libri quello che ho imparato sui libri è il 10% di quello che mi hanno insegnato loro se vuoi andare a vedere su un libro c'è scritto non si esce quando c'è un periodo di balagna o di slavia o di mancoro bisogna guardare la temperatura bisogna guardare lo stato del mondo nevoso bisogna guardare il tempo perché domani a mancoro sapere una branca di neve ok vai sono cose che non ci sono in libri e soprattutto non ci sono tutti gatti che ne è tante ma loro che ne hanno insieme tante come fare a capire certe cose e ogni volta che ho l'occasione di andare fuori con loro di stare con loro io li ascolto e imparco la parte finale di questo libro me la racconta da parlo ed è via ed è via poi io ci ho caricato un po' di romanticismo e di romanzo però un giorno questa cosa ho trovato in negozio e a me fa vieni qua mi sono seduto sul banchetto e lei mi raccontava io scrivevo ok come fai di fronte delle persone che ti regalano invece della loro vita puoi non citarli e ho fatto un po' di più invece che solo citarli che ho messo e ho scritto questa cosa che Zoglio non lo sapeva e se ne sono accordi quando siamo andati a fare la rilettura perché a un certo punto c'è il proprio Piero Dodesco che per noi è Piero Pan e allora sto milanese che fa l'editing perché la mia edizione è una metà quindi mi hanno dato un ragazzo che è in Milano e costa cento di mesi ma non ci hai messo dentro Piero Pan e anche Piero Pan va facendo confusione che ho ascoltato e Piero Pan se per chi ha il formato non si può chiamare su un altro modo ok e non mi sono veri sì ma hanno avuto un po' di ma siamo sicuri di questa cosa ma mi hanno detto dimmi se c'è un'ora non analizziamo ma sai potrebbero farti in causa potrebbero chiederti ma cosa sono tutti in me da manca mi hanno già detto tutto quello che hanno cosa mi devono chiedere capito e e infatti non penso magari di una cosa una mattina non penso sono ormai andata a me fuori ma mi piace di essere abbastanza salvo io sono potente di questa cosa che ho fatto lo rifarai se ho l'occasione sì non su un altro libro perché non ripetersi ma ma su dei racconti sì su dei racconti sì cioè questa linea questa linea che non è solo mia insomma lo fa anche Roberto sui suoi libri è quella di raccontare un territorio che nel caso suono o nel caso mio mi ha adottato perché io sono un po' romano insomma non ho non mi nascondo per anni ho messo una freccia di informanti poi lì vedo lì se mi è segnato e mi è sovremoniato amicato mani no non ho mani non ho ma non ho ma non ho non ho mi ha mi ha scettato la roba non c'è se non è ma non c'è 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 Parlando un po' dell'angelo del graffa, insomma, che prima abbiamo dato qualche accio, lo fanno, trascinato in montagna per i suoi genitori, un ragazzo con la passione per i videogiochi, un po' sbogliato, con poco interesse per la storia, ma in generale anche per la scuola. Salendo sul graffa incontra delle persone, delle situazioni che lo fanno cambiare, lo fanno maturare nel prendere consapevolezza della propria vita. Angelo Nati lo ritroviamo poi nel romanzo, lo chiamava Montemadre, e diciamo rappresenta un po' l'angelo cresciuto, diciamo, in seguito dell'angelo del graffa. Questo angelo ora vive in una vaida, vive ai piedi del Monte Asolone con la nuova e Carlotta, si è rinclomato, ha rilevato l'attività di Gabriele, vecchio gestore della vaida. Ecco, allora appunto, prima ha fatto qualche accenno alla sua attività di insegnante, alla sua professione di insegnante, essendo anche lei insegnante, sicuramente ha visto più di qualche angelo, fra le nuove scolastiche, prima insomma mi dava un po' qualche accenno. Ecco, io chiedo, ritiene che negli anni l'interesse dei ragazzi verso la storia sia cambiato, specie la nostra storia locale, qual è il suo settore, così insomma, vivendo anche la quotidianità con i ragazzi, voglio dire? Va bene, allora partiamo da qua, perché facciamo un accenno sul perché è nato l'angelo. Sono andato proprio in moglie della settimana scorsa per fare una conferenza sul narrare la storia e per andare a fare questa conferenza, ho fatto una cosa che non avevo mai fatto, che è quello di raccogliere un po' di dati. Mi ha scoperto una cosa che non... Un dato avevo in mano, non si sapevo che era un dato corretto, quell'altro dato mi ha stupito. Allora, il dato è, quanto è, perché dice, nella classifica delle materie scolastiche, in che posizione è la storia, se la gioca con la matematica, a fondo classifica. è il 7%, rispetto alle materie scolastiche, l'interesse è il 7%. Però, alla domanda, questa è la cosa che io non so più, alla domanda, quali sono le materie più difficili, la storia è tra le materie più difficili. Allora, l'osservazione, cioè, analizzando il dato, il pensiero che sto facendo io è, in realtà, i ragazzi, non amano la storia, ma, dal punto di vista nostro, abbiamo tagliato il corotto, raccontando le quattro cosette, facendo di nuovo che quelle quattro cosette, che siano i compiti in classe, e questo la rende una materia poco difficile. Cioè, non ti interessa? Ok, dimmi questo, questo, hai il vostro serie a posto. Quindi, la riflessione che faccio, è uno che, insomma, tutti i giorni vieni a fare con gli insegnanti della storia, è, ok, che ai ragazzi piace poco, ma non stiamo facendo niente per fargli la precede, ok? Non è che ci diamo proprio da fare, anzi, tagliamo il corotto. E quindi, l'analisi che ho fatto la settimana scorsa, era tutto super studato, e davanti a questa propria idea di guide, quindi era una propria storia dal punto di vista non scolastico, dal punto di vista di chi porta un cestone in montagna, era, che poi era, se le questioni vi faccio quando parlo a tutti gli insegnanti, che mi invitano a parlare di insegnanti, io non stiamo, ragazzi, noi siamo come un astrotto. Qualcuno sta a salvo via a qualche insegnante, mi parla con un ruppitore di finestre. Quelli che sono rimasti ancora da seduti, che hanno reso questa botta, se ne vanno via, quando aggiungo, la differenza è che un astrotto deve sudarsi o il pane, invece non ce l'abbiamo comodo. Perché dico questo? Perché? Mastrotta, per me, dico Mastrotta per il venditore, per vendere le finestre, in televisione, deve convincere chi è dall'altra parte l'ha portato il suo prodotto. Noi quando andiamo in classe, abbiamo una platteria che ha già comprato le finestre, e si può spiegare di stare là. Ok? Quindi, perdiamo lo sforzo nel cercare di convincere che il nostro prodotto è un prodotto bello da vedere. Chi riesce a fare questo step, cioè chi riesce a dire mi sforzo di fare amare la mia materia, parla di una storia, parla di un'altra materia, si trova poi ad avere degli studenti che portano la materia in testa della classifica. E dicono, io ho una buona storia perché ho trovato, come avete sentito dire spesso, con quei professori che hanno fatto amare la filosofia che è una materia odiosa, una storia, una materia odiosa, no? Perché? Perché l'amore ne ha raccontato. E... L'idea dell'agile di graffa nasce proprio da questo, ma proviamo ad analizzare questi ragazzi, perché mi stanno fornendo, come succede nelle analisi di mercato, mi stanno fornendo dei dati che devo tenere con lui. E quindi, quando a vostro fratello di ragazzi che vi portavano andando in giro a presentare l'avvento, gli dicevo ragazzi, no, dite onestamente, perché non vi piace la storia? Io ho fatto questo esperimento in tre di cento classi, cento scuole, quasi quasi proviamo anche stasera. E... E tra l'altro, adesso io stessi se non ce l'ho, però io scrivo le tre risposte in una busta, le consegne al loro primale d'intorno, che non riconosce, se come venite su una scuola banal, mi vengono subito, gli dai la busta e gli dici va, scomechiamo e le dobbiamo tutte le tre e le becco sempre. Allora, penso che se siete qua non fate parte della categoria di quelli che non amano la storia, ma facciamo fin perché non vi piace la storia. Per alzare le mani al primo che altro. Ditevi secondo voi qual è il motivo per cui mi fa piacere a quei ragazzi non vi piace la storia. È un po' più difficile una tappella dell'esame, i ragazzi sono sempre uguali. Dai, forse, corale. Da, preghi. davanti. Perché ci sono un sacco di date. Ok. Nandro, facile, è facile ancora, però è un po' difficile. Ma cosa mi serve? Cosa mi serve? Però, perché è curioso. Sì. Cioè, prima cosa che ti hai visto così, perché è curioso. La seconda è perché ci sono troppe note. La terza, non ti avvise perché si è vergogna, ma in realtà la stanno prestando tutti. Perché quando poi io gli dico, loro si mettono a me e gli dico, perché tanto sono tutti morti. Volevo dirlo. Ok. Questi sono un'analisi di più 150 scuole, perché sono 12 anni che faccio questa roba, tutti quanti tum 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 tum. Ma è un sacco un attimo, ma se devo vedere nelle merendine nella kinder ho la panna e gli ho guardato a 100 persone, 100 persone che mi dice la panna si è l'acqua. ciò, mettere qui su quello sotto la panna, no? Cioè, abbiamo una risposta e quindi cerchiamo di evitare cosa? Sul certo punto di tutti morti, no? Non mi scuro, sono fede. Lavoriamo su 22, lavoriamo sulle date, quindi, l'asse temporale, ci servono le date, sì. Parliamo di prima guerra mondiale, mi serve a mettere tutte le 11, quattane, le di zonzo, o una dietro l'altra? No. Se me le chiediamo c'è a te, noi ciò, non me ne ricordo, ok? Non me ne ricordo. cosa mi serve a sapere? Mi serve a sapere caporetto, mi serve a sapere collocarlo temporalmente, perché, angelo, nel libro, prima guerra mondiale, sì, mi sembra 13, 14, 15, 18, no? Inizio, fine, caporetto. Questo è sufficiente per avere un quadro della situazione, no? Perché qualcuno ha messo il prima guerra mondiale in quattro, sì, guarda, c'è, 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 Quindi, quando l'hai collocata, un attimo, poi anche sul caporetto, e qua, maestro Roberto Spisogno insegna, 24 ottobre, lo imprende nella testa dei ragazzi, giocando, anche, no? Ricordatevi, perché poi lo ripeto sforzo il 24 ottobre, e loro rimane quella, quando viene fuori la fine della guerra, guardate la casualità, 24 ottobre del 17, inizia il caporetto, 24 ottobre del 18, dovrete iniziare la battaglia spinale, perché? Di motivo di guardare, perché cancellare la più grande rotta, con la più grande dittoria, poteva essere una cosa, quindi anche là bisogna un po' di farla, bisogna raccontare in qualche modo, per esempio, e poi, devi lavorare sulla noia. L'angelo nasce, perché, ho detto, C'è, io gli credo sti ragazzi di qua, sti ragazzi di qua, sono curiosi da unire, tutti noi siamo curiosi, però loro hanno una curiosità positiva, perché i tipi piccoli, perché, 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 dopo, quando diventiamo grandi, non è che la curiosità non ci sia, ma diventa curiosità dorsiana, tipo, sì, ma non mi sembra cos'è la curiosità dorsiana, è curiosità del barrio russo, cioè, ci interessa sapere, Marco, quanti curiosi che da Belleni in ultimi 6 mesi, tra l'altro, comunque, è un po' difficile da ricordare, no? e quindi, diventa gossip, esatto, diventa gossip, e prendiamo questo senso, no? E invece, finché si è ragazzino, nessuna curiosità dà un lavoro, il lancio, nasce così, nasce stampando dieci copie di quel libro, dico, se per il tuo libro non è stampare dieci copie, e ora è la parte, l'idea di saltarne ancora, nasce per un giorno finché andavo, stavo andando a camminare, sui progetti romano, mi si è vicino a un uomo, che poi c'è in testa, che per questa mamma, che se che lo vanno in ultima volta, è questo stesso, qualcuno, quando si sta, a notte, questo è il suo genitore, che lo fate, quindi fa il tutto, si serve, che sono le 24, e un serice ne fa, è vero che ho scritto un libro, si, però, guarda la vericità, e, si trova in libreria, ma, non ho pensato in libreria, ci dovrebbe essere un'idea, quindi, tolto da questo entusiasmo, torno a un mio ipografo, gli dico, oh, vado in libreria, stampate la libreria, e mi dici, guarda che, per avere un prezzo da libreria, non puoi stampare le dieci, perché stanno tornando a 50 euro, quanti, 100, stampano a 5, entusiasmo, ma, e poi, guarda prendere, sono due scattolucini, e, sono a casa, con questi due scattolucini, scena da Fawest, no, apro la porna, e non mi vedo, questi due scattolucini, e allora, vedi, queste lecche, su cosa dirvi, cercando di avere il tatto giusto, io, guarda, la figlia, mi dice, noi non abbiamo 100 parenti, ok, va bene, la parola è andata in maniera diversa, quello è stato un libro fortunato, perché siamo arrivati a, o non so, tra l'idea si portava, adesso, quindi se mi accoppia, insomma, è solo parte, roberti, ne ha venduti, prima, della lezione delle storie, ne ha venduti, qualcosa, con la auto di la copia, insomma, è un libro fortunatissimo, fortunatissimo, poi, mi ha dato i gioia, mi ha dato il resto di i gioia, e poi, a un certo punto, colpa, loro, da questo entusiasmo, mi ha detto, beh, facciamo il secondo, e io, non se ne parla, nemmeno, infatti, mi chiamavo anche la madre, è il segno, coerente. Ok, ecco, continuando un po', sul discorso, per, allora, sempre che romanzo, lo chiamavano anche madre, in una lettera inviata dal fronte, da parte di Pietro, a Sara, sopra messa a sposa, e scrivendo gli orori belli, ci scrive, di un gruppo di ragazzini, con in mano un'arma, pronti a combattere, per qualcosa che non conoscono. Stiamo combattendo, contro dei bambini, che giocano a fare la guerra. Ecco, forse sarà una domanda, un po' etonica, ma avrete mai pensato, che di queste cose, se ne potesse parlare, alle porte dell'Europa, dopo i trattati di pace, di Parigi, dopo altre dichiarazioni, cioè? No, no, e quando ho studiato la guerra, che stiamo vedendo, per la televisione, tutti, mi ha fatto un effetto stranissimo, anche perché, era una guerra moderna, combattuta come si combatteva, cento anni fa. Pensate un po', anche qua, il ripetere della storia, i russi, che hanno, abbattuto, una po' le ore, e sfermato i tedeschi, col generale Inverno, che vanno imbrigati, nel generale Inverno, e non riescono, a venire neanche a casa, perché si impallano, con i carri aromati, nelle paludi, di fango, tutto quello che sta succedendo, è che arrivi in mente, un déjà vu, e fa riflettere. Anni, quando affronto, l'albumismo, le scuole, non è che ho mai, affrontato l'albumismo, a cuore leggero, perché sono sempre, andando scuole, parlando di questa storia, di famiglia, la prima guerra mondiale, è una storia, per noi, per tantissimi noi, è una storia, è ancora, meno, affatto, a un mio disno, non ho fatto, c'è ancora, un legame diretto, per presentare, questi ragazzi, che non avevano, questo legame diretto, lo facevo, con il dato, che era qualcosa, di famigliare, che veniva raccontato, ma adesso, faccio la mia fatica, quando mi invitano, a parlare, a raccontare, la prima guerra mondiale, faccio sempre, un po' di attenzioni, più ancora, di quello che facevo, perché, perché ha qualità, ragazzi, c'è, e, e, al di là, di quello, che, che poi, ci stanno, smettendo in media, io riconosco, tanti dati, che sono i dati, delle guerre precedenti, no, l'uso della propaganda, in maniera, forse, rimanata, di mandare a morire, i ragazzini, le diserzioni, ci sono, in entrambi le parti, di questi, e, di questi, che si trovano, a fare una guerra, più grande di loro, è un, un ripetisi, che non si ha mai aspettato, alle porte, insomma, di un secolo, che dovrebbe essere, il secolo, dove, ci è parlato, si è pensato, alla pace assoluta, quindi, a rifiare, a tornerire, tutti quei fuori, volai, di guerra, ci sono una media di 50, per, costantemente, non, ma, sono tutte quelle guerre, che non vengono, avanti delle miglie, perché, non perché non fanno, molte le danze, ma perché sono considerate, in zone minori, e questo, se la prima, alle porte d'Europa, che ha un peso, anche mediatico, decisamente diverso, però, di fatto, così drammatica, non è mai, da spiegare, e, purtroppo, se vi parlo, da un po', che sono un po', di diversifizia, con queste cose, ce la, non ci vedo, tanto, una strada, di, di uscita, da alcuni, per alcuni punti di vista, io ho visto anche, l'Europa, l'Europa, degli anni, alla fine degli anni, 30, insomma, con tutti i drammici, che, che, che ho, portato, a, alcuni, sempre, anni, poco, decideranti, e poco, a bene, da parte, della loro, prodotta. Ecco, allora, spostiamo, un attimo, di discorso parliamo sempre di Grande Guerra che in più di qualche occasione ha raccontato la storia dei recuperanti, l'andare per scaglie, uomini e donne che dopo la Grande Guerra si dedicavano al recupero delle perdi bellici per la rivendita come ferro vecchio per il loro sospetto addirittura. Ecco, ha ricordato alcuni personaggi come il Pertuccia e vuole raccontarci qualche aneddoto su qualcuno di questi personaggi, mi era rimasto un po' interesse per oggi. Sì, no, tra l'altro, proprio dopo che non tantissimo tempo fa, il Pertuccia è stato subito e non tanto tempo fa, ho fatto un lavoro e mi hanno detto che c'è chi mi ha conosciuto il Pertuccia, che per noi sono dei miti, tra l'altro, parlando di Borso e Morphoon, il famoso loro della cima di Paolo, è uno di questi miti per noi, e sono tutti due personaggi che per noi sono dei super erogai e che però non sono mai riportati. Il Pertuccia è stato l'ottotizio, in Veneto si dice, si faceva prima saltarlo e girarci al corpo, piccolo e grosso, che aveva stato il compito di salire con il Piel 18 e andare a conoscimento per arcare il ferro. E lui aveva questa passione foile per la vita. E il Pianta Accesa, aspetta per un'interessante c'è un'altra grappa, c'è un posto che si chiama, su Pianta Accesa, c'era una chiesa di sangue, che con pareti, sono vicini, sono vicini, cazzo. Ah sì. E' famoso perché, da una parte, c'è l'ospedale, c'è la chiesa, tant'è che dicono che quando gli anziani, giocando a carte, facciamo i preghi, i preghi, i preghi, i preghi, la canottica, insomma. Lui si fermava sempre a mangiare questa pericola al suo. Ma non era tanto la pericola al suo che l'affascinava, quando chi la faceva la pericola al suo, e quindi questo faceva, andava sul cimagrafico, caricava il suo camion e poi, scendendo, si fermava al piano, e l'accesa, mangiare questa pericola al suo, e quindi mangiare questa pericola al suo, e la signora Laura stessa mi raccontava la niece, grazie. La niece che raccontava qualche tempo, molto come si fa la pericola al suo, o cartuccia, però, come si diceva, la niece, era una pericola al suo, aveva una tigra e gli ammenava questa roba infinita, e i ragazzi del paese saltavano sul frugone e glielo scuotavano. E' andata in post la storia, no? Quindi cartuccia ogni volta faceva questa roba, a un seggio, ma tra l'altro una mano al cielo, perché gli dice i ragazzotti, costi, soldi, recuperati, sono riusciti, chi è compresa la città, che è la bicicletta, quindi è diventato praticamente uno che ha mantenuto i ragazzotti del paese. Al giorno tutto il cartuccia scompare. non lo vedete lui. I recuperanti, Paolo gli riporta, perché arriva un altro. Questo cosa fa? Anche lui, il terzo e la tripa, un po' meno a mese, il terzo e la tripa, lui arriva, gli ha deciso, ma la tripa lo sulcarica, e quindi poi torna giù tritto. Ok? Quindi i ragazzotti sono rimasti. Ed è finito qua. Poi il periodo dei recuperanti dura, che è durato, poi adesso si vanno avanti per recuperare l'attività sportiva, ma recupera l'attività sportiva. Dopo un po' di anni, si ripresenta in fianco della cesta un signore, abbastanza giovane, con questo accento margato americano, e entra in fianco della cesta e dice, ma c'è un signor agnese lì, questo mio, non è nato la morta agnese, no? Partito da un po'. Però sapete, lo straniero è il forester, e si arriva là, mentre il quattro manca il quattro sopra la cata, se lo tira dentro, tutto il giorno, ma io volevo tarsi, non fumbe e manca la cata. Insomma, parlando fino a sera, qualcuno ha sconciato quanti dici? Chissito. Ok? E lui dice, ma fai, io mi chiamo John Boff, e mio padre è capito da qua, ma mi ha detto, e non pare chissero. Ma mio padre era un boff, mezz'ora alla fine fa. Il corso, per esempio, Carpuccià! Carpuccià! Brubbè! Che fine ha fatto il Carpuccià? Ma c'è un po' di domanda. Ah, ma mio padre è trasferito negli Stati Uniti, perché tutti gli altri recuperano anche un sacco di soldi, e mio padre non ha i soldi, ma anche il sacco non ha mai. E lui dice, no, oh, che sta, oretto, che di schiazza. Che l'ha fatto negli Stati Uniti? E sono fatta fuori dagli Stati Uniti, e lui è arrivato là, e ha cominciato a lavorare nelle mie mie. Poi ha fatto un saltino di categoria, e ha fatto New York. New York, cosa ha fatto? New York è andato a fare per la zona, nel ristorante, per fare piatti, lui ha fatto un salto di qualità. Sì, 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 ma... E dopo? E fa un giorno, nel ristorante, il cuoco si ammala, tu italiano? Sì, tu cucina! E insomma, dopo il mio padre, otto, ha comprato un ristorante, e lui, ma quando si dice, sì, poi ha comprato un altro ristorante, ma adesso noi, grande catena di... sei, faccia? Ma è vero, grande cuoco il tuo padre. Ma insomma, ha fatto piatto calattico, ritagliato da quei grandi pazienti. Cosa? La tripa al sugo. Sì, scusa Nati, ma... la catena dei ristoranti, eh, la catena di che il padre si chiama Tagli, e dice... No! Ora... nel 2019 sono stati gli Stati Uniti. L'unica cosa che non ho cercato, è Spagna, perché questo non è un mito. Per me? Ok. C'è. C'è. Metà le fantasie nella realtà. Però è bella sta storia, fa sempre sorrire quando la racconti, di come questi recuperanti hanno visto questo periodo, perché è stato un periodo armatico, voi immaginate, per esempio, di The Sky, e... insomma, molti di loro hanno anche lasciato chi la mano, chi il braccio, chi la vita, ed è un periodo. E infatti, nel libro, io parlo dei recuperanti moderni, ma mi arrabbi tantissimo, realmente, e l'antagonista del libro, che non esiste veramente, è uno di questi recuperanti che non rispettano le regole. E in queste regole che ci sono in campo, sono delle regole non scritte, che vanno a non fare cose, non scavare per niente, e tutte queste cose là, ci sono anche delle regole di rispetto nei confronti di quello che viene trovato, e nei confronti di chi ha vissuto, raffacendo quello che era buono. Quindi il recuperante del gratto di oggi, il vero recuperante del gratto di oggi, è quello che quando va a scavare, lo fa quasi come un rito. Quindi porta a casa l'oggettino, all'attura di pulirlo, all'attura di farlo vedere, di conservarlo, di regalarlo a un museo, di scambiarlo, ma con il... quasi il nostro oggetto religioso. Ok? Perdonati, no. e il recuperante invece, che viene dalla pianura a scavare, viene portato su da questo esperimento, che è l'antagonista del romanzo, e viola la regola numero uno, cioè va a scavare, e quello che fa trovare queste persone, è quello che viene seminato. Il seminare è un termine che si usa, lo faccio anch'io quando provo ai ragazzini, è quello di nascondere sotto a un leggero strato, di muschio, un pezzettino di pallotto, la tua cosa. I ragazzini servono perché così lo trovano, si entusiascano, e anche gli racconti la storia. Chi invece lo fa con inganno, con oggetti falsi, per poi prendere il cliente, ma non rispetto alla montagna, è chi è morto in quella montagna. E c'è chi lo fa. E c'è chi lo fa. Questa è una donuccia forte che io ho voluto fare, e la gente ha una donuccia forte che non è possibile. Chi è? Chi è? Chi è su un grado? Lo sa. Lo sa. Allora, bisogna dirlo. Bisogna dirlo. Quindi è una denuncia forte di queste attività che sono un qualcosa che va proprio per l'illecito. Perché? e adesso dico una cosa forte, non capite? Se vado a mangiare in un rifugio che sono una vita e nove volte in suoi chiese mi offre un panico, che a volte è un palico, ma non voglio neanche sentire parlare delle certe due scondini. Ok? Scusatemi. No. della serie la fatica è di fare questa gente. E questo per me non è una trusa, no? È il fatto che questa gente vive con niente. il mattino non puoi dire che ha conto? Eh, perché? Non cazzo. Faccio sempre l'esempio delle bocchette perché vedo l'aula e anche perché, insomma, so bene la loro realtà perché li conosco bene. Quando un commerciante gli passa, gli dicono che alla fine della serie con rispetto di deve mandare via internet direttamente all'edificio delle tratte dire a quattro madonna ma scherza il bottone fatto. ingranda la lavora tira quattro madonna schiccia il bottone non parte niente. Ok? Perché? Non c'è internet perché salta la commissione non gli è ancora una vita, eh? Cioè, deve succedere che allora vengono comunisti di salta all'Italia comunisti di imprezzature deve andare su e afforci il vetto perché c'è campo perché siamo in altri posti non c'è campo. Ok? Allora, come facciamo a dire? Questa è una denuncia forte e l'ho fatto anche a Mauro. questo discorso qua. Come facciamo a riempirci la bocca dell'amore per il grappa se qualcuno graffa vive e deve mangiare non riesce a farlo? Non riesce a farlo? Allora, poi, l'abbiamo detto la strada scorsa che ha fatto questo discorso assieme e lui mi dice stiamo diventando un paradosso che vogliamo le città super formide di internet e di queste cose qua ma verdi. Ok? ma la montagna deve essere pura casta però per tutti i servizi anche là. Allora, come stanno ad avere i servizi in montagna se questa gente non riesce poi a riempirci le stanno abbandonando le stanno abbandonando le stanno abbandonando e ha una denuncia che ha fatto anche insomma anche altri scrittori importanti in medie montagne ma in maniera più marcata abbandonare la montagna vuol dire che poi proprio veniamo su non andiamo niente e non possiamo lamentarci perché non abbiamo fatto niente perché queste persone riescano a vivere non è che la sua casa mia l'angelo di grappa o lo chiamavano altre madre di cui mi chiamavano però una piccola denuncia una piccola denuncia per un fatto vedere che queste persone ci sono quindi vai a vedere se c'è e nel contempo raccontare delle piccole storie c'è gente che sta soffrendo per mandare avanti un'attività che è un'attività principalmente legata all'amore che ha avuto questo posto perché quando parli con loro prima che non riescono a fare devi dire tutto il dispiacere che hanno nell'abbandonare un posto perché sono andati su ad erano piccoli a sieno perché li hanno portati perché hanno voluto tutte le mittie di praticità tutta una serie di cose infinite e questo è quello che loro mi hanno insegnato e che serve di raccontare tramite altre madre come rifugio tramite le bocchette tramite giacomo tramite tutte queste figure che ho inserito dentro che sono tante ma tante c'è tanto lo sforzo perché voi sapete come le regole nella narrativa è quella di mettere pochi problemisti perché non potete e io non mi stiamo a fare fare bene perché non è sempre super ecco allora termino con un'ultima domanda facendo riferimento un po' alla sua esperienza di guida escursionistica allora lo ha detto adesso insomma ma lo ha detto anche in qualche altra persona in qualche altra occasione che ama accompagnare le persone sul grappa raccontando una guerra vissuta in cento anni fa ecco allora l'attività all'aria aperta ritiene sia sempre un buon poca sana aiutando in varia maniera a trovare la soluzione a molti conflitti e anche sviluppando delle capacità di progresso soluzione tuttavia le camminate in montagna non devono essere fatte in modo sproveduto ma con scienza e coscienza come si suol dire le è capitato di incontrare qualche camminatore sproveduto e le ha dato qualche consiglio e le chiedo anche un'altra cosa sempre parlando dei giovani amano queste occasioni un po' distanti da umori e bagliori e dei luoghi aggregativi si 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 questa è una cosa che se vi capita di portare è una delle grandi soluzioni che abbiamo nel nostro lavoro di portare questi ragazzotti in montagna in un secondo tornato e dice guardate capite del telefono che quanto ormai non prende e subito soffrono per questa cosa però poi quando sono su si dimenticano si si applicano si applicano una velocità paurosa tornando a scostituziare due giorni due camminate al mese nei boschi è uno studio scientifico è uno spazio cittadino aumenta il 16% la capacità del nostro organismo di autodifesa due passeggiate nei boschi quindi quando mi chiederemo quattro quindi immaginate di la fortuna che abbiamo su questa cosa è cose strane beh se ne sono tre o quattro non mi devi rimettere una volta adesso ho imparato l'abbigliamento della montagna quasi tutto ha un patch costruito guida adesso ho cominciato ad avere delle cose che non hanno un patch costruito guida perché quando tu vai in giro e hai un patch in qualsiasi posto sei qualcuno che ho giocato tutti i piedi fuori da casa e quindi adesso mi hanno silenzio io faccio l'escorso in vista normale e ecco ad una realtà che siamo andati via siamo andati io e Elena l'abbiamo trovato facendo dal dall'Auronzo dall'Ocatec all'Auronzo che mi sono per 5 metri stavamo facendo un giro dall'Ocatec all'Auronzo poi abbiamo fatto tutto un giro e salito per mettere la mano una signora che mi fa tutto e e lei rimani un po' basito quel che pensi e va bene in questo verso vogliamo anche arrivare in fondo trafondo dopo tornare indietro e insomma non so se lo sapete ma quando hai l'Auronzo hai due possibilità o dormire l'Auronzo o scendi in parte di scalina perché è utilissima parla di mille 300 metri che si diverte o che mi dedico non hai altre possibilità e quindi poi adesso una cosa l'anno scorso invece due anni fa c'era la neve c'era la neve c'era il ciascolare questo mi ha preoccupato molto di solito noi facciamo un giro del posto di nero che è un classico tra l'altro è una ciascolata facile qualità a tutti però ci siamo un po' attenti perché si arriva a un certo punto noi lo chiamiamo un po' di legno dove c'è questa struttura dell'eroe dove bisogna scendere più dell'anello perché si va al mio dritto io sono i leppi e è uno dei posti che stacca cioè uno dei posti che sgancia e stavamo partendo con un gruppo e mi si affianca due tipi mi dicono non ci ascolta dice come è il giro qua? guarda se volete siamo un giro siamo un giro sono un giro e noi dimmi un po' sta in un certo punto giri giù a me lo pesca la mattina non esco quindi si vedevano le ciascolate e a propista un gruppetto dietro e vedo le ciascolate tra l'altro era nata la mia moglie perché faccio un giro veloce e poi ti aspetta. Quindi io vedevo le ciaspe di mia moglie e le ciaspole di questi due, quindi a mano a mano un po' avanti riuscivo a capire, ma io lo facevo per capire se mia moglie, che però conoscete mai, e a un certo punto vedo, secondo me io, vedo solo le ciaspole di mia moglie, non più quelle altre. Allora fermo anche un gruppo, torno leggermente su, mi sposto, vado verso quello che non avrei dovuto andare principattamente e poi ho avuto un momento in cui, cioè, devo inseguire, perché vorrei uscire la rite e lasciare le altre pecore, però hai un momento in cui veramente anche se hai un po' di esperienza, ci pensi quando devi fare. Alla fine la cosa più stessa è di mettere in sicurezza le persone che erano con me, quindi l'ho fatto il giro. e quando siamo qua e dovevo rifare due giri quel giorno d'anni, mi sono arrivato a Refugio, ho lasciato il primo gruppo, ho preso il secondo gruppo, ma sono arrivato su alla prima data che è dove sei, non si conosce in te, perché la zona dove studiava, c'era una grande serie di legno che l'ho vista nelle foto, tu sei dove la seconda parte del Parlamento Storico, veniva questi tipi qua. E mi hanno dato che è riprogato. quindi ho detto, ma te lo voglio dirmi anche? Lo dovevo dire. Però effettivamente la tua data è rimasto anche un basito, nel senso del tempo. Cosa devo fare? Dovevo lasciare il tuo gruppo per andare... Secondo me che sono la regola della montagna non posso lasciare delle persone in pericolo percorrimento a due che si sono avventurati però Alice è un po' il paterno di coscienza se si stacca e li tira insolto poi quella volta avevo detto sono andato a rifugio, sono in giro se è passata una certa ora ma noi ci facciamo sempre quando anche la settimana scorsa era una storia cinografica che pioveva c'era una delle giornate brutte e un gruppo è partito e dice lo sapevano a andare a Milano sono andato a rifugio c'è il furgone da capo X così se hai fatto un giro non vedi che torna non chiamare il protoco però sono queste cose che mi piacerebbe un po' anche se se hai delle regole e la regola è meno di scurrezzi poi quel giro la ricorderà un bel po' perché ogni tanto non sono anche questi questa è una cosa che mi sono è una cosa che mi sono e la prima è la prima siccome il tedesco del progresso va anche se allora è una cosa che mi sono e la prima è 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 la prima